Colpo di testa, la palla in rete, spettacolare l'1-2 dell'Eco che trova il gol del vantaggio, la rete porta la firma di Pinzauti, buono il lavoro di Lacchi che si è preparato, si è infilato su uno dei rari errori proprio della mediana, tardivo, forse spalla alla porta, forse poi genuamente aveva tentato di proteggere palla portandosela però in avanti, prontissimo Lacchi che è andato a sfondare sul lato di destra e poi veramente al bacio questo colpo di testa che ha permesso alla difesa di schierarsi alle spalle di Volpe, l'1-0 domicilio dell'Eco che fa saltare di gioia